Grazie per questo documentario che ci spiega quello che è successo e ci introduce nel nostro dialogo su questo bellissimo libro. Come dicevo prima si tratta di un'autobiografia, quindi è l'esperienza che Marco De Paolis ha vissuto appunto da quando è diventato procuratore capo alla Spezia e ha avviato le indagini nei confronti delle stragi commesse dalla Wehrmacht e dalle SS in Italia che causarono complessivamente la morte di 6.961 persone come possiamo vedere sulla quarta di copertina del libro e ricostruisce diciamo in questo libro ci porta passo passo lungo i processi di cui abbiamo sentito che ha fatto celebrare prima la Spezia poi successivamente a Verona e a Roma condannando 57 persone all'ergastolo. Questo libro è molto importante secondo me per tre motivi. In primo luogo perché riguarda la storia dell'occupazione tedesca in Italia, la ricostruzione degli eccidi, una delle pagine peggiori, più drammatiche diciamo, della storia del nostro paese. E in secondo luogo perché ricostruisce le vicende amarissime del secondo dopoguerra che qui sono accennate e della mancata giustizia dei lunghi tempi per arrivare a fare questi processi. Il terzo motivo però lo dirò dopo. Vorrei aggiungere che Marco De Paolis che svolge un'attissima attività divulgativa, questa mostra ne è un esempio, e oltre a aver curato saggi, dirige con Paolo Pezzino la collana I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia per la casa editrice Viella. Purtroppo Cecilia Palombelli non può essere oggi qua perché come sappiamo si inaugura oggi il salone del libro a Torino e quindi con tutta la casa editrice sono lontani da noi, era molto dispiaciuta per questo. In questi volumi una parte è di ricostruzione storica e un'altra parte di cui è autore De Paolis è specificatamente dedicata proprio alle vicende dei processi. Con Paolo Pezzino ha scritto il primo volume che è un volume più di ricostruzione generale, la difficile giustizia e i processi per crimini di guerra tedeschi in Italia, un'altra è Sant'Anna di Stazzema e l'altro è sul processo Montesole-Marzabotto che è stato ora tradotto in Germania e da quello che leggevo in un'intervista sarà presentato al salone di Francoforte, internazionale Francoforte. Con Isabella insolvibile poi De Paolis ha scritto il volume dedicato a Cefalonia. Le stragi naziste appunto provocarono un numero di vittime molto maggiore appunto come stavamo dicendo, sono quasi 25.000 i civili morti in più di 8.000 episodi in tutta quanta Italia ma furono inoltre circa 70.000 i militari che vennero uccisi nei lager nazisti o negli uccidi successivi all'8 settembre. Oggi possiamo trovare l'elenco completo delle vittime, del numero dei luoghi dei massacri nell'Atlante che è anche disponibile online, delle stragi naziste e fasciste in Italia che è stato curato dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri assieme a Lampi. La strage peggiore, più grave, è stata detto anche nella clip, è quella di Mazzabotto dove furono uccise 800 persone e tra esse 200 bambini, furono bruciate le case di tutti e furono uccise tutti gli animali di queste povere persone agricoltori. E come ha detto Mattarella il 25 aprile, quella molto commovente commemorazione della strage di Civitella in Baldichiana, 203 vittime, quelli furono gravissimi crimini di guerra contrari a qualsiasi regola internazionale e ai principi di umanità. Appunto a essere barbaramente uccisi furono soprattutto donne, anziani, bambini, gli uomini erano al fronte a combattere o erano nascosti o facevano i partigiani. Violenze, stupri, cadaveri bruciati, dilaniati per non farli poi scoprire con l'esplosivo, paesi distrutti, ma era tutto pianificato dalle SS e dalla Wehrmacht in maniera, come dire, molto, non per cattiveria, ma era tutto pianificato, come sappiamo erano pianificati. Era pianificata la distruzione nei lager nazisti, nei luoghi di esterminio. Per queste vittime non ci fu giustizia, sono pochi appunto i processi che non vennero fatti. Ma perché non c'è stata questa giustizia alla fine della guerra? Perché ci sono voluti tanti anni e ancora dopo la scoperta dei fascicoli nell'armadio della vergogna? Perché poi questa giustizia alla fine c'è stata troppo tardi, quando molti dei protagonisti erano morti? E penso che questo naturalmente, per questo vale il contesto, il contesto della guerra fredda, anche Liliana Segre nell'introduzione, nella prefazione al libro, lo ricorda, insomma, no? Nel mondo del dopoguerra la Germania dell'Ovest doveva essere reintegrata nel blocco occidentale, impegnato nello scontro con quello orientale sovietico, e porla in quel momento sul banco degli imputati era considerato, come scrive appunto Liliana Segre, inopportuno in termini di realpolitik. Ma dopo il 1994, era finita la guerra fredda, sono passati cinque anni dalla caduta del muro di Berlino e l'Unione Sovietica è stata sciolta da tre anni, è finita. Devono passare ancora anni, segnati da quella che tu chiami giustamente inerzia giudiziaria, perché per l'appunto il nostro coraggioso procuratore militare di La Spezia, dove erano stati mandati i fascicoli per cui la procura di La Spezia era competente per territorio, li aprisse e avviasse le sue indagini. Io quindi ti chiederei, come prima domanda, proprio di dirci come ha avuto questa tua esperienza e come mai appunto la vicenda di questa vergognosa inerzia giudiziaria. Grazie. Grazie.